In Italia perché è caccia al killer di Mario Piccolino, l'avvocato blogger di 71 anni di Formia, provincia di Latina, ucciso con un colpo di pistola nel suo studio. Gli investigatori scavano nell'attività di Piccolino che dai suoi blog freevillage.it più volte aveva denunciato illegalità e affari sporchi del sud pontino. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo subito in diretta con le nostre inviate, lo vedete a Formia c'è Matteo Parlato. Buongiorno da Formia, innanzitutto domani alle 10 si terrà l'autopsia dell'avvocato e poi ci saranno quindi i funerali. Ma andiamo alle indagini, indagini a cui collabora anche la direzione distrettuale antimafia di Roma. Come giustamente detto tu c'è caccia al killer, l'uomo è stato visto. Ora gli investigatori che mantengono il più stretto riservo stanno analizzando da una parte tutte le telecamere che si trovano vicino allo studio dell'avvocato e anche quelle che si trovano alla stazione ferroviaria e negli incroci, negli snodi strategici di questa città. Ma stanno soprattutto passando al setaccio tutto quello che è dentro il computer e la macchina fotografica dell'avvocato, che appunto era anche blogger. Nel suo blog freevillage.it lui denunciava in continuazione quanto accadeva in questo territorio. Mi piace ricordare alcuni degli aspetti che lui aveva sottolineato nella sua attività. Aveva parlato delle macchine del videopoker e queste sue parole si erano trasformate in atti che il comune li aveva trasformati in atti per cui c'è un regolamento qui che tende a controllare questo tipo di macchine mangiasoldi. Aveva parlato della presenza di famiglie legate al clan dei casalesi che sono qui. E infine aveva seguito l'iter per l'assegnazione del patrimonio confiscato all'avvocato della Camorra Cipriano Chianese che da poco è stato condannato con rito abbreviato, quindi con una riduzione di un terzo della pena, a tre anni e quattro mesi. E dopo il suo omicidio venerdì scorso noi abbiamo seguito la grande fiaccolata, la risposta di questa città a questo omicidio. Vi ricordo che l'avvocato è stato ucciso con un colpo solo in fronte. Noi per capire come i cittadini qui hanno reagito a questo efferato omicidio abbiamo parlato con il parroco qui della chiesa di Sant'Erasmo che è anche il patrono di questa città. Sentiamo le sue parole e poi linea allo studio. Ieri sera la città ha espresso la sua voglia di legalità, di giustizia. Però c'è anche tanta sofferenza per una presenza dello Stato ridotta. E' stato chiuso da poco il Tribunale di Gaeta e questo ci fa sentire meno protetti, meno tutelati nei diritti, nella giustizia e nella legalità su questo territorio che ne ha un estremo bisogno. Ancora qualcuno parla di infiltrazioni. Qui la camorra, la malavita è organica al tessuto purtroppo di questa città.